Scusami, guarda lui, guarda lui che non abbiamo problemi con la testa. Io ti faccio un segno, ma sto producendo così che tutto è posto, ma sarà tutto a posto. Calma, ma grazie. Guarda qua, loro stanno usando il mio UBS. Se tutto è a posto, adesso sapremo se è tutto a posto, perché se loro cominciano giusto... D'un altro non c'è differenza. Andiamo. Pronti? Artifici? Sì, to posto. Tic, 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 tic. James Paul. grazie e ten tisca e ten tisca illy 00 00 00 00 00 00 00 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.